Buonasera da Giuseppe Recca dalla redazione. Oggi è giovedì 23 febbraio. Un piano B, quello che domani illustreranno le associazioni Ora Basta e Sciacca Terme Rinasce, è un tavolo tecnico finalizzato alla riapertura delle terme, un'iniziativa che scaturisce dalla mancata ammissione ai fondi del PNRR nell'ambito del bando di cassa depositi e prestiti per le due associazioni. È necessario fin da ora guardare oltre e valutare altre possibili strade per riqualificare le strutture termali e affidarle in gestione. Carnevale di Sciacca 2023 a maggio. Il sindaco Fabio Termine ha confermato questa mattina in una conferenza stampa le date degli ultimi due fine settimana di maggio, 20 e 21, 27 e 28, dopo il bando per il concorso di carri allegorici. Tra venerdì e lunedì prossimo sarà pubblicato anche quello per affidare l'organizzazione della festa ad una società privata. A maggio le sfilate dei carri sono previste anche per la domenica mattina e la sera le esibizioni si concluderanno entro la mezzanotte. Naturalmente ha confermato il ticket d'ingresso, un dialogo con le autorità e di sicurezza per verificare le condizioni di realizzare il percorso più adeguato in centro storico. Tra i due fine settimana sono previsti eventi collaterali. La Sicilia ogni anno perde almeno 50.000 giovani che decidono di emigrare in cerca di fortuna per esigenze di lavoro, di studio. Questi sono i dati ufficiali dell'Istat che, seppure approssimativi per difetto perché tanti giovani decidono di partire senza cambiare ufficialmente la propria residenza presso gli uffici di riferimento, sono molto allarmanti. Un'emorragia continua che rischia di trasformare la Sicilia in una terra senza speranza. Emanuele Cassara ha ricevuto formalmente dal commissario Aspe Mario Zappia l'incarico di direttore sanitario dell'azienda. Il neodirettore assume l'incarico ad Interem fino al prossimo 30 giugno quando dovrebbe avere luogo la nuova nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie siciliane. In atto direttore sanitario ad Enna, Cassara rivesterà a scavalco e a titolo gratuito il nuovo ruolo ad aggrigento. Nei comuni della Valle del Belice un calendario unico degli eventi collaterali di promozione del turismo da parte dell'Unione dei Comuni Terresicane. Ieri sera riunione convocata dal Presidente della Giunta dell'Unione Gaspera e Viola per porre le basi per questo obiettivo. Il calendario degli eventi delle Terresicane integra e arricchisce quello approntato dalla Fondazione Inico nell'intento sinergico di promuovere l'offerta culturale e turistica del territorio in occasione di Menfi, città italiana del vino 2023. La Sicilia è sempre stata il crocevia del Mediterraneo, un luogo in cui culture diverse si incontrano e si mescolano, ma so che talvolta nella vostra vita quotidiana vi sentite lontani dal cuore dell'Europa. Oggi sono qui per dirvi che la Sicilia è invece al centro dell'Europa più che mai. Con queste parole la Presidente della Commissione dell'Unione Europea, Ursula von der Leiden, si è presentata all'inaugurazione questa mattina dell'anno accademico dell'Università di Palermo. Poi ha incontrato il Presidente della Regione, Renato Schifani. È tutto per questa edizione, grazie e buon proseguimento. Restate con noi. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.